Allora, di solito voi mi vedete sempre molto tranquillo e pacato, cerco sempre un po' di analizzare le partite per quello che sono, guardando gli aspetti positivi, quelli negativi e cercando di dare un'analisi equilibrata della partita appena vista. Io questa sera non ci riesco, perché al netto del valore indiscutibile dei tuoi avversari, che sono una squadra forte, veloce, dinamica, intraprendente, tutto quello che volete, io non accetto un'umiliazione del genere. Perché uno può guardare i risultati e pensare, te la sei giocata, 2 a 1, alla fine, tutto ok. Ti hanno aperto il culo, ti hanno aperto il culo, e questa è una cosa che io non accetto, perché sono settimane che tu costantemente, salvo orare eccezioni, permetti ai tuoi avversari di farti una ventina, una venticinquina di tiri in porta e non, da chiunque. Io ho visto fare 20 tiri dall'Atalanta e anche più, dal Frosinone, dal Verona, da chiunque. Cioè questa è una cosa che non ha senso di esistere, perché, ripeto, nulla da togliere all'Atalanta, gli faccio grandissimi complimenti perché stanno facendo una stagione della Madonna. Possono andare, anzi quasi sicuramente andranno in Champions o in campionato. Possono vincere l'Europa League, giocarsi la Supercoppa Europea e possono anche vincere la Coppa Italia, tutto quanto insieme. Questo per farvi capire che non è tanto un discorso di partite giocate consecutivamente, ma come le affronti, come le approcci. Perché l'Atalanta sicuramente ha una rosa di qualità con interpreti forti sia titolari che riserve, ma non così tanto diversa da quella che dovrebbe essere la Roma, in teoria. O almeno non così diversa come si è visto questa sera, perché oggi sembrava di vedere una squadra di una categoria e una squadra di un'altra. Quelle classiche partite dall'Atalanta che con squadre piccole finivano 6-7-0, quel 7-0 con Lecce, 7-1 con chi non mi ricordo, l'Udinese, il Palma. Cioè, è stata una volontà divina che tu fino all'ultimo sei rimasto sul 2-1. E ormai sono settimane, settimane che tu contro questo tipo di squadre gli permetti di fare quello che vogliono e Dio solo ci mette la mano sopra e dice Guarda, ti faccio perdere ma non ti faccio prendere in giro da mezzo mondo, se no con il Bologna hai preso 3 gol e ne potevi prendere più. Anzi, vabbè, lì è stato un po' 3 tiri 3 gol, ma con il Leverkusen in entrambi i casi ti è andata comunque bene, tralasciando come sono arrivati. Però comunque le occasioni ce l'hanno avute. Oggi vi giuro, io sono senza parole, io ho nervoso, che voi non ne avete idea. Non ne avete idea. Perché ti sei proprio consegnato al tuo avversario. Cioè io ho visto proprio che nei primi minuti, subito così, pappalenti, compassati, siamo letteralmente morti. Ma non solo fisicamente, anche mentalmente. È una squadra che ormai è morta. Sarà che la metà dei giocatori sono in prestito, sarà che comunque ormai l'obiettivo di Europa League è andato, mentalmente la squadra è stanca. Però vi giuro, non sta funzionando un cazzo. Non sta funzionando un cazzo. Ora, l'unica nostra speranza è che l'Atalanta vinca l'Europa League, che comunque sarebbe un rodimento di culo. Perché ci sei arrivato vicino tu, arriva loro, ta, schiocchiuditi, te la vincono. Ma vabbè. Ma noi saremmo capaci, segnatevi queste parole, di vedere l'Atalanta che vince l'Europa League e noi arrivare settimi. E così la Lazio ci supera e vanno loro in Champions. Da sesti. Ci avrebbero detto che quando noi diamo per scontato, vabbè, arriviamo sesti, mi tocca sperare. Ci devi arrivare a sesto, perché la Lazio adesso è a meno uno. Giochi con Genoa ed Empoli, per carità. Ma con questo atteggiamento tu pensi di vincere sicuro con Genoa ed Empoli? Io non lo so. E l'unica cosa che so è che tu sei ad un passo dal fare lo stesso numero di punti che hai fatto l'anno scorso e che hai fatto due anni fa. 62-62 e sei a 60 con due partite dal termine. Ci sei vicinissimo. Vicinissimo. E comunque non vai oltre questo cazzo di sesto posto. Da quando la Champions League si raggiunge nei primi quattro non sei più arrivato quarto. Da quando da quest'anno si raggiunge al quinto non arrivi, neanche quinto non arrivi. Cioè sembra che tu vuoi allontanarti da questo obiettivo. Cioè più ti si avvicina, più ti allontani. Capace che se ci vanno in sei, come detto, arriviamo settimi. Sicuro. Come la morte. Sicuro. Perché questa squadra sarebbe capace di tutto. Nel bene, ma soprattutto nel male. Un'umiliazione, mamma mia, imbarazzante. Cioè loro sempre primi sulla palla, sempre a ripartire. Tu la rilanciavi in avanti, la perdevi subito e subito la riprendevano loro. Ogni occasione offensiva era un pericolo di un potenziale gol. Vi giuro, non so com'è possibile che questa partita non sia finita. 5-6 a 1. Non lo so. Sarà che sono stati imprecisi. Sarà che alla fine sono calati perché loro, in teoria, hanno una finale di Coppa Italia tra tre giorni. Capito? Quindi per chi dice, eh sì, sei cresciuto. Tu sei cresciuto perché loro hanno gestito le forze. Perché comunque loro hanno una finale, un'altra partita, un'altra finale, un'altra partita. Non come te che la Coppa Italia le hai buttate via le ortiche facendo una semifinale, un quarto di finale vergognoso con la Lazio. E in realtà quella partita già te la sei tolta di mezzo. Allora la tanta che devi dire. Loro sono l'unica squadra o una delle poche che ha giocato più partite di te. Più partite di te hanno giocato. E oggi ti hanno fatto il culo, ti hanno fatto. Anche loro hanno giocato tre giorni fa. Mi direte, è meglio giocare in casa col Marsiglia che fuori casa con l'Everkosan. Grazie al cazzo, direte anch'io. Però è comunque un impegno europeo. È comunque una partita che hanno giocato a metà settimana. Che comunque gli ha tolto energie fisiche e anche mentali, tutto sommato. Invece hanno vinto dominando quella e hanno vinto dominando anche questa. Io vi giuro, questa ho pensato, o la pareggiamo, ma perché è proprio a destino che questa non la devi perde. O ce ne fanno una marea. E alla fine comunque è finita a metà. Cioè con una sconfitta che da risultato dici ci sta, ma se tu uno guarda la partita capisce l'enorme differenza che c'è stata tra le due squadre. Io adesso le sto pensando tutte. Sicuramente adesso è anche un po' il fastidio di questa sconfitta. Ma ho paura che forse questa benedetta conferma di De Rossi sia stata un po' frettolosa. Nel senso, allora, non gli do le colpe di tutto. Però è normale che anche ultimamente ci stia capendo poco. Non era facile per carità. Però coincidenza vuole, e sicuramente è una coincidenza, che da quando è stato, diciamo, ufficializzato che lui verrà confermato non ne abbiamo vinta più una. Neanche una. Neanche per sbaglio. Forse con Milan e Udinese, con il recupero, e tutti sappiamo com'è andata a finire quella partita. Solo quelle due. Poi tutte le altre partite importanti, che sia Napoli, che sia Juve, che sia Leverkus in andata, che sia Leverkus in ritorno, che sia Atalanta, non ne hai vinta una. Hai fatto due pareggi con due squadre che a fatica riescono a pareggiare con la Salernitana, che perdono con il Bologna, che perdono col Frosinone, che fanno figure di merda ogni partita. Tu, gli unici due pareggi che hai fatto sono stati con due squadre che forse stanno messe ancora peggio di te, con la Juve che è avanti giusto perché il girone d'andata ha fatto una marea di punti, se no, da quello che ho letto, tipo su 51 disponibili l'hanno fatti 21. Cioè, 30 punti buttati, 10 partite che non hai vinto fondamentalmente, che hai perso. Che devo dire delle prestazioni dei singoli? Cioè, non lo so, nel senso, non ce n'è uno che si è salvato, non ce n'è uno. Svilarro, per quanto non ha colpe, oggi era una statua di sale. Cioè, ogni tiro fatto era così, 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 così. Fermo così, guarda così, 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 così. La difesa Mancini, ma che cazzo fa sul gol dell'1-0? Ma cosa fa? Ma cosa fai? Giustifichiamolo perché sicuramente è stanco, ha giocato sempre, per carità. Però è una cosa imbarazzante. Cioè, De Cattelari che è stato esaltato dalla telecronaca, era il dribbling, è entrato in aria, ha saltato il coso. Ma Mancini, così ha fatto? Cioè, è come se lui, questa è la porta. Mancini, così ha fatto? Così ha fatto? Poi, per carità, giocata, quello che volete, tanto è normale. Magari i tifosi bergamaschi diranno, eh, ha fatto una gran giocata. Noi diciamo che la caccata l'ha fatta Mancini. Per me sono entrambe le cose, ma c'è molto di più un Mancini che inspiegabilmente si toglie, non riesce a fare il movimento. Secondo gol è ancora peggio. Cioè, tu dopo due minuti rilasci di nuovo la difesa in quel modo libera, così a cazzo. Cioè, ma come si fa? Ma come si fa? E sul 2-0 non è che dici la partita cambia, se sfogano. Cioè, loro ti hanno messo la partita in ghiaccio in due minuti e poi hanno continuato ad attaccare, hanno continuato ad avere occasioni. Il palo di Koppmeiner sul tiro di Pasalic fuori di un millimetro con Spiral che stava guardando così, la parata laser. E non è che me la prendo con lui, è perché, lo ripeto, adesso sono incazzato e ci sta, però oggi veramente è una statua di sale oggi, così. Fermo, 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 fermo. Però è normale, il centrocampo non ci sta capire più niente. Tutti lenti, compassati, non riuscivano a tenere un pallone. Davanti peggio, cioè davanti Nukaku, Ebram, Ebram si ha guadagnato il rigore, stop. Ormai Ebram è qui un giocatore che sta così, così. È il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo, lo spot di Griffin. Ce lo vedo sempre così. No, no, sempre per terra. Oddio, fallo, no, fuck you, fuck you. Basta, l'unica cosa che fa è alzare le braccia, così. C'è un sacco di gente che io non voglio proprio più vedere alla Roma, ma poi anche si cambi inspiegabili. Cioè alla fine mi rifai il 4-2-4 di Di Francesco che non serviva a un cazzo. Me rimetti di nuovo Joao Costa. Ma che cazzo ci fai con Joao Costa agli ultimi minuti di una partita così? Ma cosa ti può risolvere Joao Costa? Dio santo! Me metti Asmun, Ebram, Lukaku, tutti insieme. Ma che pensi di risolvere? Cioè sono entrati loro, sono stati più loro avanti che tu. Cioè nel senso, entrati loro non hai creato più un tiro. Non è che dici... Perché ovviamente sarebbe troppo facile. Allora chiunque metterebbe, diciamo, i giocatori tutti offensivi. Alla fine fai l'ultraoffensivo e segni. Ma chi l'ha detto? Cioè se tu non sei equilibrato rischi di prendere altri gol. E così è stato. Sei stato ancora più... Sei stato ancora più fuori cazzo. Più a cazzo sei stato. Non lo so, non lo so. Meno male, ne mancano due. Ne mancano due. Poi bisognerà capire. Chi sarà il DS? Chi sarà l'allenatore? Sembra De Rossi. Che giocatori gli verranno presi? Che preparazione faremo? Che squadra verrà fatta? Io non lo so. Non lo so sinceramente. Però ora come ora siamo una squadra veramente vergognosa. Che non sa giocare a calcio. Che è lenta e incompassata. Non è che è un gioco brutto. Cioè semplicemente non... Non riusciamo a sapere cosa fare. Sì hai giocato con Bologna, Atalanta, Leverkusen. Tre squadre forti. Però anche contro tre squadre forti puoi fare sicuramente partite meno vergognose di quelle che hai fatto. A tutti gli effetti. Detto questo un saluto a tutti. Sempre comunque Forza Roma. Ma meno due. Meno due. Ce la possiamo fare dai. Ce la possiamo fare. Meno due e poi per un po' di settimane nessun rodimento di culo. Finalmente. Ciao ragazzi.